Presidente, ieri giornata intensa ma oggi non sarà da meno? Mi auguro che sarà un crescendo, quantomeno sarà importante mantenere i livelli di ieri. I livelli per autorevolezza e per contenuti sicuramente saranno gli stessi, in quanto ieri abbiamo avuto con grande orgoglio l'onore di avere quattro ministri, due viceministri, cinque sottosegretari e il governatore della regione, ma così come tanti stakeholder del nostro sistema produttivo di trasporto e logistica. Quindi è stata una giornata importantissima. Oggi penso sarà una giornata altrettanto importante in quanto avremo la presenza di sottosegretari, viceministri, leader politici e tutto questo sicuramente favorirà un giusto scambio di opinioni e di idee tra pubblico e privato, che è un po' quello che Alice ha sempre fatto un po' sin dalla sua Costituzione. La presenza del governo non è solo formale, anche ieri Alice ha fatto delle richieste pubblicamente. Guardi, quello che deve contraddistingue la nostra associazione è la concretezza. Cioè è giusto fare un evento, ma è ancora più importante sollevare istanze, questioni e proposte e portare i risultati. Grazie a tutti.